A Trani sarà possibile pagare con il proprio tempo la richiesta di aiuto alimentare. L'iniziativa è il frutto della coprogettazione degli enti del terzo settore, l'ufficio di piano di zona e le realtà sociali del territorio. Vediamo di più di cosa si tratta nel servizio. Una moneta della solidarietà, si chiama così il nuovo progetto di lotta agli sprechi alimentari, frutto del lavoro di coprogettazione tra enti del terzo settore e l'ufficio di piano di zona di Trani, risultato dell'operato basato sulla trasparenza, la cooperazione e la condivisione delle scelte con le realtà sociali del territorio. Questo progetto è il frutto di un lavoro che si sta portando avanti da tempo a Trani. Stiamo immaginando di valorizzare i beneficiari degli interventi di solidarietà, facendoli passare da un ruolo passivo a un ruolo attivo nella raccolta e distribuzione delle derrate alimentari derivanti da eccedenze e sprechi. Qual è l'obiettivo che si pone questa iniziativa? L'obiettivo principale è quello di potenziare il sistema territoriale di recupero di alimenti da spreco ed eccedenze e di intervenire in maniera innovativa nella povertà. Quindi provare a innescare dei processi virtuosi di attivazione sociale partendo dal basso. In accordo con i servizi sociali territoriali sarà attivato quindi un sistema di moneta complementare che potrà essere acquisita attraverso l'attività di volontariato e consentirà alle persone meno abbienti sia di avere accesso a beni e servizi, sia di riconquistare un ruolo attivo nella società. Finalmente nei giorni scorsi è giunto l'ok per l'ottenimento del finanziamento regionale. Adesso avvieremo tutta la parte preliminare di organizzazione e poi il progetto durerà circa 18 mesi. Immaginando un sistema in cui gli ultimi diventano leva per il miglioramento delle condizioni di tutta la popolazione. Trovando uno strumento che abbiamo chiamato moneta della solidarietà o meglio moneta del tempo dedicato al prossimo. Quindi questo strumento che va a valorizzare il tempo che noi dedichiamo alle attività di volontariato.